Benvenuti a meteogiuliaci.it. Dopodomani, mercoledì 18 dicembre, ancora bel tempo su gran parte dell'Italia, a parte un po' di nuvole al centro nord, nuvole innocue. E per di più, nonostante ci sia l'alta pressione, ci saranno poche nebbie, qualche gelata soprattutto nelle zone interne del centro. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete questa perturbazione che ha invaso un po' il centro nord, ma che darà luogo a nuvolosità. Qua è la nuvolosità poco consistente. Andiamo a vedere allora il tempo per dopodomani e vedete le nuvole che insistono soprattutto sulla Liguria, sulla Toscana, sull'Emilia Romagna e sull'este della Lombardia. Uno sguardo anche alle temperature, temperature pressoché invariate, intorno a 8-10 gradi al nord, 10-14 al centro, 14-17 al sud di Solizzone Maggiori. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.